buongiorno saluti ben trovati siamo qui dal campo di gara sulla strada di marciano che conduce a termini la più panoramica della penisola sorrentina per raccontarvi questo trofeo auto di massalubrense una bella giornata ci divertiremo oggi ci fate un inquadratura di questa competizione di questa gara 3 chilometri 12 tornantini 12 varianti un percorso molto tecnico percorso molto tecnico molto bello però un poco scivoloso perché è freddo abbiamo molti ospiti stranieri provenienti dalle regioni vicine abbastanza non proprio come sempre perché oggi alcuni hanno pensato che la giornata non era giusta pensavano che pioveva infatti il tempo allontanato quattro tempo allontanato il nostro in bocca al lupo quante mangi è anticolata tre mangi più tardi a casa che la mamma non c'era questo stato di noi oggi buongiorno buongiorno ben trovati ben trovati buongiorno non mi danno più siamo vostri impazzini e vi seguiamo dalla vostra impazzina siete il preferito siete il campione ci raccontate le vostre impressioni per questa gara umida e freddo le gomme in bocca al lupo auguri buongiorno 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 ascoltateci le vostre impressioni siamo qua per divertirci la strada in ordine in strade e condizioni e penso che sarà una bella lotta tra Financia, Benanzio e Miccio i tre favoriti per la vittoria il resto siamo outsider con la speranza di un buon piazzamento Aldo ne approfittiamo per farti gli auguri ti abbiamo visto prima condurre una bellissima condottoressa all'altare qualche mesetto fa il 23 ottobre e poi ti abbiamo visto applaudirla a quella dottoressa per la sua laurea qualche mesetto prima ancora quindi ti facciamo i nostri complimenti concludere la famiglia di esposito bellissimo e intanto che coincide con i 40 anni e più di passione per le auree vero? sono 40 anni che corro io lo sto facendo i pari e i dispari per appena di cattaccioso arriverò a 68-70 anni mi sono dato il limite e quando ho la stessa emozione e come i 40 anni qua io sono sempre presente quando non mi emoziono più mi spetterò augurissimi bocca al lupo ignorato ciao a tutti ci vediamo all'arrivo ciao a tutti 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 ciao a tutti